Chiudi gli occhi e fai alcuni lunghi respiri e quando espiri basta permettere a tutte le tensioni del corpo di andarsene, per sempre, ora. E mi chiedo se puoi immaginarti a camminare lungo una spiaggia calda e confortevole. Senti la sabbia calda sotto i piedi, senti le onde che vanno dentro e fuori, dentro e fuori, simile al tuo respiro, come il respiro dentro e fuori. E noti come le onde del mare sono in sincronia con la tua respirazione. Mentre respiri, il mare toglie tutte le tue preoccupazioni e le mette nella vastità del mare, dove tutto è filtrato e ripulito, lasciandoti privo di preoccupazioni e con una sensazione di pace. E mentre questo è in corso, trovi che stai diventando sempre più rilassato, profondamente rilassato. E tu sai come ci si sente ad essere rilassato, vero? Tu hai già avuto questa sensazione di rilassamento molte volte fa. Così tu sai come ci si sente e tu puoi tornare in quel posto quasi meditativo in questo momento. Basta tornare a quel posto di relax, comfort, calma, quel posto dove ti senti che tutto è giusto nel mondo. Dove ti senti un senso di pace, conforto e tranquillità. Senti il calore della sabbia sotto i tuoi piedi. Il calore fluisce nel tuo corpo, come se fossi avvolto in una coperta calda di amore. Giusto? E come le onde rilassanti del mare ti cullano in un posto di pace profonda, trovi facile permettere alla tua mente di andare in questo posto meraviglioso. È tranquillo qui e senti un senso di gioia e amore. Continuando ad andare più in profondità col tuo rilassamento ora, godendoti lo stato di benessere. E mi chiedo se puoi immaginare come sarebbe vivere in un mondo di pace, di pace interiore. Si tratta di un posto creato solo per te. Quindi lo trovo molto confortevole e di gradimento. E anche tu lo trovi molto confortevole e di gradimento. Tutto è come lo sogni e desideri. Perché ormai tu sai che tu crei i tuoi sogni, la realtà e la tua vita. Allora, perché non inizi a creare la tua vita esattamente come desideri? Esattamente come la desideri? Perché tu puoi. Quindi vai. Crea il tuo mondo esattamente come lo desideri. E aspetta. C'è un segreto nel creare la vita esattamente come la vuoi. Ti piacerebbe sapere il segreto? Ok. Prima fai un respiro profondo e vai dieci volte più profondo di dove sei ora. Così calmo, rilassato e pacifico. Giusto? Basta andare dieci volte più profondamente. Giusto? In un attimo vado a contare da cinque a uno. Noti che con ogni numero tu facilmente vai a un livello più profondo di trance. Troverai ogni livello di trance più piacevole di quello precedente. Più tranquillo e più calmo. Giusto? Cinque. Fai questo passo per un maggiore rilassamento ora. Quattro. Più e più profondamente rilassato. Tre. Sogna lasciandoti rilassare sempre più profondamente. Tu. Due. Sei così rilassato che non puoi muoverti. Non provarci nemmeno più. Permettiti di andare più a fondo in questo meraviglioso stato di benessere. Perché è qui che tu crei la vita che sogni. E allora il numero successivo. Lasci te andare più a fondo. Di dove sei stato prima. E poi dieci volte ancora più profondo di lì. Uno. Dieci volte più profondo del livello di trance più profondo di dove sei mai stato. Vai ora. Bene. Ora sei pronto per conoscere il segreto. Il segreto della creazione della vita esterna che desideri è quello di creare la pace al tuo interno. Giusto. Ripeto. Il segreto della creazione della vita esterna che desideri è quello di creare la pace al tuo interno. Crea la pace interiore. Inizia ora immaginando una luce bianca sotto i piedi. È lì per assistirti. E supportarti. In un attimo vado a chiedere di fare un respiro profondo. Ispira e immagina la luce purificante che inizia ad essere assorbita dai tuoi piedi. Ok. Respira profondamente e consenti a questa luce purificante di essere assorbita dai tuoi piedi in tutto il corpo. tutta la tua mente, in tutto il tuo spirito e nota come ogni cellula del tuo corpo si ripulisce. E con ogni espirazione lascia semplicemente che tutte le tossine, emozioni negative e residui scuri si liberano dalle punte della dita dei piedi e si liberano dalle punte della dita dei piedi. Giusto. Ok. Con ogni espirazione lascia semplicemente che tutte le tossine, emozioni negative e residui scuri si liberano dalle punte della dita dei piedi e si eliminano nella vastità del mare ora. Nota che sei trasformato, ti sei tolto e purificato da roba vecchia con questa luce. Bene, lasciala andare tutta adesso. L'universo si prenderà cura di quella e al momento tu sai che hai bisogno di questa luce per purificare il corpo, mente e spirito. Goditi questo momento più rilassante e tranquillo. E ora tu sai che hai bisogno di questa purificazione del corpo, mente e spirito. Goditi questo momento rilassante e tranquillo. Continua e noti ora la creazione della tua pace interiore che ti permette di creare il tuo mondo esterno proprio come desideri, pieno dei tuoi sogni più grandi. Così sogna e goditi la sua fruizione e questa sta diventando la tua realtà. Totalmente calma, tranquilla, con un grande senso di apprezzamento e un grande obiettivo della tua vita ora. Comincia a concentrarti su tutto quello che vuoi avere nella vita ora e tutto quello che ti riempie di gioia. Rompi l'allusione della mancanza e concentrati invece su apprezzamento e gratitudine e abbondanza. Concentrati ora sull'apprezzamento lasciando che ti riempia con amore, gioia e felicità. Ok, giusto. Concentrati ora sull'apprezzamento lasciando che ti riempia con amore, gioia e felicità. Giusto. Questa è la pace interiore. Questa è la pace interiore. Tu ora hai pace interiore. Tu ora hai pace interiore. Ti orienta per compiere e per aiutare il tuo scopo interiore, quello che hai dentro te stesso. Lascia che ti guida perché dopo tutto tu sei unico con i tuoi doni speciali da condividere con le persone che ti sono intorno. Parti e vai avanti. Condividi i tuoi doni. E poi nota che come la condivisione ti permette di creare i tuoi desideri nella vita, ora stai facendo proprio questo. Crea la vita esattamente come la desideri ora e ti senti meraviglioso. Lascia che questa sensazione meravigliosa ti purifica ogni cellula del tuo corpo. Nota come ti purifica ogni cellula del tuo corpo. Questa è la pace interiore. Tu ora hai pace interiore. Quindi ricordati che la pace interiore è dentro di te. Quello che devi fare per accederla è ricordartelo e respira. Giusto. Ricorda che è sempre dentro di te. La pace interiore è dentro di te. La pace interiore è disponibile in ogni momento della vita. Quindi ricorda. Perché è bello ricordarsi la pace, vero? E mentre continui a godere di questa pace interiore mi chiedo se puoi immaginarti in piedi di fronte a uno specchio. Vedi te stesso il riflesso. È un riflesso della tua perfezione. Del tu perfetto. È un riflesso della tua perfezione. Del te perfetto. Immaginalo ora. Lascia che l'immagine rifletta sia le tue bellezze interiori che esterne. Giusto. Guarda questa riflessione della tua perfezione nello specchio. Vedi il riflesso di te sinceramente felice confidente disinibito in ogni senso. Una riflessione che irradia fiducia in te stessa e che si ama molto. ti dice Ciao. Benvenuto. Mi piacerebbe condividere con te il segreto per una vita perfetta. Il segreto che quando scoperto ti permetterà di manifestare la confidenza perfetta che ti vedi rispecchiata in questo momento. Vuoi conoscere il segreto? Bene, ascolta. Sai, molte persone nella vita sono confuse. Credono che una volta che sono confidenti e disinibite allora saranno felici e amate. Ma vedi, sono confuse perché pensano che le emozioni dipendono dalla tua confidenza e disinibizione. Il segreto per una vita perfetta è capire che la confidenza è dettata dalle tue emozioni. Chi sei esternamente è un riflesso dei pensieri che tieni forti dentro. Per diventare quella persona confidente esternamente tu devi prima diventare quella persona confidente internamente. Ok, giusto. Per diventare quella persona confidente esternamente tu devi prima diventare quella persona confidente internamente. Puoi chiedermi cosa succede se non ho tutta questa confidenza interna? Ti chiedo se la vuoi. Vuoi quella persona confidente internamente? ti chiedermi poi immagina questa riflessione di perfezione uscire dallo specchio ed abbracciarti. Le sue mani diventano le tue mani le sue palme diventano le tue palme e immagina una luce brillante e un bagliore questa è la luce più bella della vita tu ora hai fiducia in te stesso questa luce inizia a brillare e scintillare alla base della riflessione del tu perfetto senti questa luce incredibile di fiducia riempirti il cuore traboccare dal tuo corpo dalla tua mente e spirito con questo senso incredibile di luce e questo livello di confidenza in te stesso che è necessario per fare le cose che vuoi fare per diventare questa riflessione di perfezione come fai il bagno in questa luce di fiducia in te stesso immagina il riflesso del tu perfetto creare un'altra luce incredibile pronto? andiamo questa è la luce della felicità innocente del bambino da cui l'energia pura proviene lascia che questa luce sia la più innocente la più grande felicità giusto e immagina questa luce della felicità brillare in un bagliore è la luce del tu ideale immaginala che trabocca dalle sue mani nelle tue traboccante dal suo corpo nel tuo dalla sua mente nella tua e dal suo spirito nel tuo e come l'energia fluisce nel tuo cuore riempendo tutto il tuo corpo mente e anima permettendoti di vivere felicemente invece di vivere per essere felice il tipo di felicità per le cose che vuoi l'energia dentro di te per fare le cose che vuoi fare davvero e se ciò non bastasse immagina ora il riflesso del tu perfetto che comincia a creare un'altra luce incredibile questa è la luce dell'amore incondizionato la forma e versione più bella dell'amore forse questo è il tipo di amore che non hai provato ancora o che non hai provato in tanto tempo è il tipo di amore che ispira consenti a questa luce di essere l'amore più puro che puoi immaginare e come questa luce di amore incondizionato comincia a girare alla base della riflessione del tu ideale immagina che la luce va in tutto il tuo corpo mente e spirito come questa luce d'amore risplende dalle sue mani nelle tue dalle sue parti del corpo nelle tue giusto? bravo tu senti una sensazione incredibile di amore di amore per te stesso che ti riempie tutto il corpo la mente e lo spirito e senti come l'energia fluisce nel tuo cuore con questo livello incredibile di amore puro il tipo di amore che ti dà l'ispirazione necessaria per fare le cose che vuoi fare per diventare questa riflessione di perfezione e se questo non è abbastanza immagina ora questa riflessione di perfezione fare un passo avanti per abbracciarti in un abbraccio d'amore meraviglioso e come anche tu fai un passo in avanti per abbracciarla giusto bravissimo mentre vi abbracciate il riflesso del tu perfetto viene assorbito interamente dal tuo corpo mente e spirito la sua pelle diventa la tua pelle le sue ossa diventano le tue ossa e la sua anima diventa la tua anima e ora il riflesso del tu perfetto è all'interno di te e ora il riflesso del tu perfetto è all'interno di te tu sei quella persona che muove gli occhi sulla sezione sana del menu perché la riflessione sana di perfezione all'interno di te ora fa le scelte alimentari sane ti ricorda ti supporta e incoraggia a continuare a nutrire il tuo corpo con alimenti sani solo quando hai fame e a riempire la tua mente solo con pensieri e convizioni sane positive e di supporto giusto tu sei quella persona che muove gli occhi sulla sezione sana del menu giusto tu mangi cibi sani principalmente verdure perché lei sarà quella vocina nella tua testa che ti dice svegliati buongiorno è il momento per un grande giorno trasforma la tristezza e tenebre in luce lei è l'amica a cui ti puoi rivolgere nel momento del bisogno lei sarà sempre lì per te ti dirà tu puoi farlo e tu hai fatto tutto quello che ci vuole e che serve giusto e tu hai tutto quello che ci vuole e che serve e sì lei sarà quella persona che tu vedi nello specchio perché il riflesso della perfezione si trova all'interno di te ora e sì lei sarà quella persona che tu vedi nello specchio perché il riflesso della perfezione si trova all'interno di te ora giusto come continui a beneficiare del sostegno di questa luce riflessione voce che è l'amore per te stesso più incondizionato possibile e la confidenza massima in te stesso è ora facile per te giustamente rilasciare tutto quello che non serve come per esempio extra peso corporeo chilogrammi che non servono più perché ora ti ami incondizionatamente e vuoi il meglio per te stesso e ora mangi cibi sani e freschi principalmente verdura hai valori sani credenze sane pensieri sani e amici sani ora godi preparare il cibo crei cibi sani per te stesso giusto e porzioni e quantità che sono ideali per il tuo peso e la tua forma ideali giusto che supporta la tua riflessione della perfezione e supporta la tua perfezione per esempio quando è il momento di mangiare e nutrirsi fai piccoli morsi morsi mastichi ogni boccone molte volte più di prima permettendo agli enzimi digestivi di stimolarsi in modo che quando il cibo entra nel corpo ora lo nutre in modo più sano giusto ora ora lo nutre in modo più sano puoi mangiare di meno e sentirti nutrito bene giusto e anche perché ora rilasci emozioni negative in modo sano ti nutri solo per le tue esigenze biologiche la tua nutrizione ora è equilibrata e perciò noti il peso extra del corpo che ora si scioglie molto facilmente e hai un corpo in forma sei fiducioso di essere in un bel costume da bagno in spiaggia giusto di fronte ad altri e ti senti attraente confidente hai la fiducia per attirare le relazioni ideale per te tutte le relazioni ideali per te perché ora che ami te stesso incondizionatamente è facile accettare amore dalla gente la tua bellezza interiore brilla ora sul tuo corpo esteriore e attrae a te stesso relazioni meravigliose sei fiducioso che tutti i tuoi sogni diventano realtà e lo saranno sei confidente nelle relazioni e incontri perché tu sai che sei amabile sicuro e protetto ti senti sostenuto nella vita hai un senso di sicurezza sei consistente dai e ricevi amore forte ed infrangibile tu sai che ora sei così e hai tutti questi tratti e valori dentro di te ecco giusto ora mangi solo quando hai fame per nutrimento biologico rimani in buona salute se ti dimentichi per un attimo ti ricorderai subito se ti dimentichi per un attimo ti ricorderai subito scegli bevande salutari come acqua spremute e frullati è facile ricordarsi di mettere sostanze salutare nel tuo corpo in ogni occasione rimani concentrato sulla tua missione visione e scopo nel mondo nella vita tu ora potenzi e ispiri altri che a loro torno ispirano altri eccetera e con i tuoi successi incluso l'amore per te stesso l'amore di sé ora puoi insegnare agli altri come amare se stessi incondizionatamente ti senti tranquillo sereno centrato e tu adesso hai tutto il supporto di cui hai bisogno nella vita giusto tutto il supporto all'interno di te tu ora hai un senso di pace di sicurezza e consistenza e questo ti permette di mantenere la calma concentrazione serenità e connessione per questo ti è facile ricordarti di respirare profondamente giusto tu ora hai un senso di pace di sicurezza e consistenza e questo ti permette di mantenere la calma concentrazione serenità e connessione per questo ti è facile ricordarti di respirare profondamente giusto questa esperienza piacevole e rilassante che stai avendo ora diventa poco poco caratteristica di te nella vita quotidiana hai fiducia e calma interne e se qualcosa ti debia tu interrompi temporaneamente qualsiasi cosa stai facendo ispiri profondamente e espiri lentamente e nell'espirare ti godi una calma rilassante interiore una calma fiduciosa che scorre dentro al tuo corpo mente e spirito questo ti consentirà di continuare il tuo compito le tue azioni in modo molto più efficace hai solo bisogno di interrompere brevemente ispirare profondamente e espirare lentamente e godrai una calma rilassante interiormente un senso fiducioso di compostezza che permetterà alla fiducia in te stesso e all'amore per te stesso ti traboccare questo è tutto comincia ora presta attenzione alle cose che hanno bisogno d'attenzione ti rendi conto dell'importanza di prenderti cura di te stesso così anche aumenterà la qualità della vita degli altri attorno a te questo è tutto questa attenzione alle cose che hanno bisogno di attenzione ti rendi conto dell'importanza di prenderti cura di te stesso così anche aumenterà la qualità della vita degli altri attorno a te ricorda che ci sono sempre soluzioni e risorse abbondanti per assistirti per assistirti giusto per assistirti ogni volta che hai bisogno di assistenza in modo che puoi sempre trovare una soluzione ogni volta di cui ne hai bisogno così bravo hai imparato a gestire la tua confidenza e disinibizione come oggi questo è tutto in un momento conto da 1 a 5 e quando lo faccio ti risvegli più con ogni numero quando raggiungo il numero 5 sarai totalmente sveglio e allerto sapendo che il fatto che apri gli occhi significa che hai completamente accolto e accettato tutti i suggerimenti che ho dato per il tuo benessere ora giusto questo è tutto quando raggiungo il numero 5 sarai totalmente sveglio e allerto sapendo che il fatto che apri gli occhi significa che hai completamente accolto e accettato tutti i suggerimenti che ti ho dato per il tuo benessere ora giusto questo è tutto 1 inizia a risvegliarti sentendoti ben riposato 2 senti la sensazione che torna nel tuo corpo ora 3 inizia a muovere il tuo corpo 4 ti senti completamente sveglio rinfrescato e ringiovanito 5 pienamente vigile ringiovinito rinfrescato sveglio e allerto pronto per il resto del tuo giorno fantastico ripeti dopo di me 1 2 3 4 5 completamente sveglio 1 2 3 4 5 completamente sveglio e bentornato 6 5 6 6 6 7 8 9 10 15